Sì, sono contento perché ho aiutato la squadra di vincere, oggi ho segnato io, a me non conta tanto, ci segno o no, è importante di vincere, di arrivare a giungere il nostro obiettivo. Per me questo deve fare un incalciatore, di stare pronto e quando il mister lo chiama di entrare e di fare vedere che c'è anche lui, di rimanere dentro, di non uscire mai. Sì, abbiamo fatto un gran lavoro con un campo molto difficile, ci aspettiamo in questa partita, ma è importante di sapere di fare anche questo tipo di partite più sporche, diciamo, perché queste aiutano la squadra a crescere. Certo che ci crediamo fino alla fine perché mancano nove partite, sono 27 punti in gioco, può succedere di tutto, noi pensiamo adesso solo alla prossima partita perché dobbiamo vincere e vogliamo vincere. Se il mister decide la prossima partita come giochiamo, giochiamo in casa, al nostro campo, con il nostro tifosi dietro, certo il mister può cambiare qualcosa, perché qua, come ho detto anche prima, su questo campo molto difficile, bisogna anche di centrocapisti, di aiutare la difesa, di fare un gran lavoro insieme.